Ho chiesto subito al ministro dell'Interni Angelino Alfano un intervento per scongiurare la chiusura della Polfer di Sulmona a seguito di quanto stabilito dalla circolare messa dagli uffici del Ministero sul riordino dei presidi di Polizia Ferroviaria sul territorio nazionale. Lo ha dichiarato in una nota la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Paola Pelino. Mi auguro che il ministro, così come è avvenuto in precedenza, saprà fornirmi a stretto giro le rassicurazioni necessarie sul mantenimento del presidio della stazione di Sulmona, strategico per garantire la sicurezza dei cittadini sui collegamenti ferroviari di un territorio che per le sue note caratteristiche non può essere sempre oggetto di talli lineari basati sui numeri, tuona la senatrice. Nei giorni scorsi intanto a sollecitare un tavolo urgente con il ministro Alfano erano stati sindaco di Sulmona Peppino Ranalli e la senatrice del PD Stefania Pezzopane. Proseguono nel frattempo la battaglia le forze sindacali, chiamate a presentare le osservazioni sulla chiusura entro il 20 agosto.